Questa è l'idea di gioco del settore giovanile, cerchiamo di organizzarci intorno alla palla per cercare di muoverla, giocando vicino, giocando corto e cercando superiorità numeriche vicino alla palla. Sta cominciando a uscire un po' il lavoro fatto, oggi ho cominciato a vederlo in maniera importante e adesso bisogna proseguire, però la strada è buona. Diciamo che avevamo subito in inizio gara due occasioni importanti in cui potevamo portarci in vantaggio, non le abbiamo sfruttate, subito il primo gol e sicuramente la squadra si è un attimino disunita, ha subito un colpo e non siamo ancora abituati a giocare a questi vivi di qua, però in fase difensiva la squadra mi è piaciuta, un po' meno in fase offensiva nel momento in cui eravamo in possesso palla e abbiamo sprecato tantissimo, cosa che a questi livelli non ci si può permettere di fare assolutamente.